Ora so che non faceva parte del piano, ma presi la decisione di lasciare una copia della mappa. Non la ritengo una delle migliori decisioni che abbia mai preso. Cercai di convincere me stesso che spargere notizie fa parte della natura di chi viaggia. Ma essere sincero, ero proprio come tutti gli altri. Spaventato a morte dal grande salto nell'ignoto. E... un disperato bisogno di portare un pezzettino di casa con me. Richard! Sei pronto? Sì, sì, sto arrivando. Andiamo! Sì, sì, sto arrivando. 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 Sì, sto arrivando.